È appena finito il terzo workshop sugli Intelligent Workplace qui presso il gruppo Helmert. È stato un evento veramente interessante in cui abbiamo potuto vedere l'esperienza di Helmert e quella di Stanley, come si stanno muovendo all'interno delle proprie realtà produttive e trasformare i luoghi di lavoro e i processi degli stessi. Il prossimo sarà il 9 maggio, lo faremo presso Leonardo di Visione Veivoli e avrà come titolo un titolo particolarmente interessante, People Care e People Strategy. Il focus che noi abbiamo dato a questa serie di incontri è quello di posizionarci sulle persone, perché sono proprio le persone che riuscivano a fare la differenza all'interno dell'organizzazione per cambiare le stesse e portare al proprio interno queste trasformazioni digitali che sta guidando ormai il mondo del business. Da questo punto di vista vedremo due esempi interessanti, proprio quello di Leonardo di come sta lavorando sulle persone, come utilizzano la formazione per questo tipo di approccio e dall'altro Biticino ha fatto un grande progetto che ha coinvolto più di mille persone su queste tematiche. Aspettiamo tutte le persone interessate presso Leonardo di Visione Veivoli per parlare di questi temi il giorno 9 maggio.